buongiorno e bentornati in questo video vi presentiamo il libro dalla lente al microscopio autori lino grossano e massimo roncati elementi di base per osservazioni ingrandite con la lente d'ingrandimento e il microscopio ottico la prima parte di questo libro è dedicata alle lenti d'ingrandimento introduzione le lenti d'ingrandimento caratteristiche di una lente biconvessa ingrandimento angolare i menischi lenti d'ingrandimento con reticolo lenti piano con vesse l'utilizzo pratico delle lenti d'ingrandimento osservazione di caratteri stampati le aberrazioni i difetti delle lenti d'ingrandimento i tipi di aberrazione la rifrazione giocare con i principi dell'ottica dove come si forma l'immagine di un oggetto osservato con la lente d'ingrandimento in più abbiamo un appendice tabelle glossario e bibliografia mentre la parte dedicata al microscopio è così composta un'introduzione usare il microscopio conoscere il microscopio come preparare un vetrino come osservare il microscopio la manutenzione del microscopio abbiamo degli approfondimenti misurare un campione l'ingrandimento la risoluzione la rifrazione l'ingrandimento a vuoto una ricca bibliografia la parte terza cosa osserviamo oggetti da osservare la saliva la carta di un quotidiano l'amido della patata l'epidermi di cipolla i cristalli di sale e altri esperimenti il costo di questo manuale è di 8 euro e 90 l'editore è libri sandit grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale youtube grazie 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 grazie